Musica Strepitoso successo per la banca Tercasteramo che nell'anticipo schianta l'Emporio Armani per 74 a 68, stratosferica prestazione di Brandon Brown Striscioni, scritte, adesive e pupazzi insanguinati sono apparsi davanti alle sedi abruzzesi di Equitalia Anche a Teramo la protesta dei militanti di Forza Nuova Il Partito Democratico di Teramo vuole riportare in Consiglio Comunale la questione dell'aumento del lici Immediata la replica del sindaco Brucchi è soltanto un adeguamento previsto dalla legge Riqualificazione dell'ex SAIG e completamento dell'iter della variante al piano regolatore Sono i primi due obiettivi dell'amministrazione comunale di Giulianova per il 2012 La Confcommercio chiede alla regione Abruzzo di non dare applicazione al provvedimento del governo che ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi Successo di pubblico per la quarta edizione del Presepe Vivente che si è svolto ieri a Miano Il Giulianova riparte da Fondi In campo neutro i giallorossi affrontano l'Aprilia L'ultimo acquisto Federico Del Grosso subito titolare In Serie D Big Match al Polisportivo di Civitanova Marche dove sarà impegnata la capolista Teramo Il San Nicolò ospita l'Agnonese e la Santil Riccione Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte Buonasera, lo avete ascoltato dai titoli Straordinaria impresa della Banca Tercas Teramo Che ha battuto l'Emporio Armani e Milano Con il punteggio di 74 a 68 nell'anticipo di sabato del campionato di pallacanestro di Serie A Ovviamente il servizio ve lo proporremo più tardi all'interno della pagina sportiva Iniziamo con la cronaca per quanto riguarda il nostro telegiornale Un deposito di capi di abbigliamento, computer e utensili probabilmente provenienti da furti È stato scoperto dai carabinieri della stazione di Silvi nel quartiere di Silville L'operazione rientra nell'ambito di controlli su alcuni gruppi di cittadini romeni domiciliati a Silvi Che i militari ritengono responsabili di furti in zone limitrofe e regioni confinanti I carabinieri guidati dal luogotenente Antonio Tricarico hanno trovato tutti muniti di etichette di vendita 33 giubbotti, 126 maglie, 16 paia di pantaloni, 43 paia di jeans, 2 borse, 2 cinture in cuoio, 1 paio di anfibi I carabinieri stanno svolgendo inoltre accertamenti per identificare le vittime dei furti Questo sequestro è il secondo effettuato in poco tempo dall'arma di Silvi Due panetti di eroina pura per un peso complessivo di 780 grammi custoditi in una cantina Hanno fatto finire in manette un 31enne di Silvi, Federico Forcella, già noto alle forze dell'ordine Fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Silvi è stato trovato in possesso di due dosi di droga L'atteggiamento irrequieto del giovane ha spinto i militari ad eseguire poi una perquisizione domiciliare Insieme allo stupefacente sono stati trovati un bilancino di precisione materiale per il confezionamento Trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Silvi, Forcella è ora in attesa dell'udienza di convalida Ieri mattina sono comparsi striscioni scritte e adesivi oltre a pupazzi insanguinati Dinanzi alle sedi abruzzesi di Equitalia L'episodio si è registrato anche nella sede di Equitalia di Teramo La protesta è stata inscenata dagli esponenti di Forza Nuova Stiscioni e adesivi con la scritta Pignoriamo Equitalia sono apparsi nei giorni scorsi a Pescara, Chieti, Teramo e Lanciano Sugli ingressi delle agenzie Equitalia La SPA a totale capitale pubblico Incaricata della riscossione di tributi e contributi Li hanno affissi nella notte dell'epifania militanti di Forza Nuova Come spiega in una nota il coordinatore del movimento in Abruzzo Marco Forconi Sotto gli striscioni sono stati posizionati pupazzi sui quali, spiega Forconi nella nota, è stato versato un colorante rosso simile al sangue A simboleggiare i suicidi e le chiusure di attività industriali e commerciali che hanno ridotto sull'astrico migliaia di famiglie italiane Solo pochi mesi fa, ricorda Forconi, Forza Nuova effettuò un'azione regionale nei confronti di Equitalia Accusandolo di istigazione al suicidio, sigillandone le entrate con nastro bianco e rosso La situazione non era ancora esplosa in tutta la sua drammaticità Forza Nuova chiede l'immediata chiusura di Equitalia e il trasferimento di poteri nelle mani di amministrazioni locali Ma soprattutto di applicare una moratoria di un anno nei confronti di quei piccoli debitori Che hanno perso il lavoro o chiuso l'azienda e non riuscirebbero a risolvere le pendenze tributarie Se non entrando nel criminale turbine dello strozzinaggio bancario e non Forza Nuova non cesserà la sua offensiva nei confronti di Equitalia, conclude Forconi Fino a quando perdurerà questo stato di cose, erigendo barricate, nel vero senso della parola, davanti agli ingressi delle agenzie Lunedì prossimo Salvatore Parolisi, il caporal maggiore dell'esercito accusato di aver ucciso la moglie Melania Rea Incontrerà la figlia in carcere I legali della famiglia Rea però protestano e dicono la bimba non è pronta Vediamo il servizio Per la prima volta da quando è in carcere Salvatore Parolisi accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea Potrà incontrare la figlia Vittoria La piccola, due anni compiuti lo scorso ottobre, è stata affidata temporaneamente ai nonni materni Che attraverso il loro legale protestano per la decisione Vittoria non è pronta, questo incontro la danneggia, dice l'avvocato L'incontro in carcere avverrà lunedì prossimo L'incontro, protesta il legale della famiglia Rea, avverrà senza che siano state rispettate tutte le procedure Così come stabilito dall'ordinanza del Tribunale per i minori di Napoli La famiglia Rea, spiega il legale, si troverà sprovvista ed impreparata Non avendo avuto nessun tipo di assistenza da parte dei servizi sociali di Somma Vesuviana Tale percorso infatti doveva avvenire prima dell'incontro Alla famiglia Rea, parte l'esa in questa vicenda E' stato detto che i servizi sociali sarebbero potuti intervenire non prima della metà di gennaio Questo incontro, conclude l'avvocato, nonostante tenga in rilievo il rapporto padre-figlia Danneggia la famiglia Rea, oltre che la minore Parolisi è in carcere da luglio scorso con l'accusa di aver ucciso sua moglie Melania Madre della piccola Vittoria La donna scomparve il 18 aprile 2011 E fu poi trovata morta nel bosco delle casermette in provincia di Teramo La decisione di affidare la piccola Vittoria ai nonni E' stata presa con un'ordinanza dal Tribunale dei minori di Napoli il 6 dicembre scorso Nell'ordinanza del Tribunale si sottolinea che a parte le accuse relative all'omicidio della moglie A Parolisi non vengono contestate altre condotte pregiudizievoli nei confronti di Vittoria Ciò rende il procedimento relativo alla pronuncia di sospensione della potestà genitoriale Legato a filo doppio agli sviluppi del processo penale Al quale in altri termini è subordinato La decisione è stata quindi rinviata il 27 aprile prossimo Restiamo ancora in tema Non trasformiamo in spettacolo un altro momento di una tragedia che coinvolge una minore L'appello dei presidenti dell'Ordine dei giornalisti dell'Abruzzo Stefano Pallotta dell'Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino Pallotta Iacopino fanno riferimento al fatto che lunedì prossimo appunto Salvatore Parolisi incontrerà la figlia nel carcere di Castrogno Dove appunto è rinchiuso con l'accusa di aver ucciso la moglie Melania Rea Proviamo a spegnere per un attimo i riflettori Scritto in una nota del presidente dell'Ordine dei giornalisti Senza alimentare una morbosità che nessun contatto ha con il dovere dell'informazione Intanto vi diciamo che Teleponte non ci sarà dinanzi ai cancelli del carcere di Castrogno E non proporrà alcun servizio E cambiamo argomento Il Partito Democratico a Teramo vuole riportare in Consiglio Comunale La questione dell'aumento del LICI il servizio Berna torniamo a parlare di un argomento che interessa strettamente le tasche di cittadini LICI Si deve o non si deve pagare questo 5% in più che era stato annunciato? Sì purtroppo abbiamo scoperto questa novità Nel periodo della Befana a Teramo è arrivato questo aumento del LICI 5% in più L'amministrazione si è precipitata a smentire questa cosa Anche perché la giunta non è niente al corrente di questo aumento È stato un adeguamento, un aumento fatto dagli uffici Senza nessuna deliberazione di giunta Dopo che la stessa giunta però si era impegnata l'anno scorso Su nostra sollecitazione a rivedere questi valori altissimi Già nella vecchia tabella approvata dal commissario nel 5 giugno del 2009 Loro si erano impegnati Questa cosa purtroppo non è successa in questo anno E invece abbiamo trovato questa novità Con la calza della Befana a questo punto Di questo aumento in più Questo che cosa comporterà? Comporterà purtroppo che tutti quanti quelli Che il 16 dicembre scorso sono andati contro voglia A pagare già LICI su dei valori altissimi Purtroppo oggi non sono in regola Devono ripagare il 5% in più Adesso l'amministrazione si precipita a smentire A dire che non è vero Però purtroppo nei fatti reali Nella logica e nella matematica Questo purtroppo è così Potrebbe accadere che tra qualche anno Un nuovo accertamento fatto dagli uffici comunali Gli uffici comunali devono fare riferimento A quella tabella nuova approvata adesso E non più alla vecchia tabella Che poi ha prodotto quelle multe e quelle sanzioni Nei mesi scorsi Non si è fatta attendere comunque la replica Del primo cittadino Maurizio Brucchi Che parla chiaramente di un adeguamento previsto Dalla legge e il servizio Sindaco, la Befana le ha portato l'attacco Del Partito Democratico sull'aumento dell'ICI Allora passata la Befana c'è la risposta? Ma guardi la Befana Credo che al PD abbia portato cenere e carbone Perché dicono le bugie Le bugie non si possono dire Perché poi anche la Befana se ne accorge Quello dell'aumento dell'ICI È ovviamente una bugia Perché è stato solo un adeguamento Istat Così come prevede la legge La base imponibile dell'ICI Non è stata assolutamente toccata Tra l'altro non riguarda tutti i cittadini Ma riguarda soltanto i terreni I terreni resi edificabili Quindi oggettivamente Stiamo parlando di un adeguamento dovuto per legge Tra l'altro queste tabelle sono delle tabelle di riferimento Perché l'ICI si valuta sul lato denuncia da parte del cittadino Cioè il cittadino che dice di avere un terreno edificabile E che stabilisce il valore Al comune poi tocca eventualmente la verifica Sulla Stu La Stu non è stata assolutamente È stata soltanto accantonata Perché in questo momento ovviamente È un momento difficile Un investimento di 82 milioni di euro Sono veramente improbabili da trovare Nel frattempo però noi abbiamo chiuso Attraverso l'incontro con le ferrovie Abbiamo chiuso un progetto importante Che è quello della riqualificazione di tutta l'area della stazione E l'area di Risulta Per cui ci sarà un parcheggio con 120 posti Un'area di bitapiazza Una strada di collegamento fra Viale Crispi e Viale dell'Aeroporto Insomma un'area verrà totalmente riqualificata Proteste degli abitanti di Villa Mosca a Teramo Dopo il forte vento e la pioggia di ieri L'impianto di illuminazione pubblica della strada È rimasto probabilmente danneggiato Lasciando al buio l'intero quartiere I cittadini chiedono all'amministrazione comunale Di risolvere il problema in tempi brevi A protestare sono anche i residenti di Via Flaiani Dopo la chiusura di Via Po Per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria Il traffico è stato deviato su Via Flaiani Creando disagi agli abitanti della zona Ci spostiamo sulla costa a Giulianova Per parlare della riqualificazione dell'ex SAIG Il completamento dell'iter burocratico Della nuova variante al piano regolatore Infatti si tratta di due progettualità Che saranno al centro del dibattito Dei prossimi due consigli comunali Che si terranno entro il mese di gennaio Il servizio Con l'arrivo del nuovo anno Ci saranno due passaggi consigliari Che riguardano argomenti importanti In materia soprattutto urbanistica Diciamo che si concretizza Una parte fondamentale Del programma Giulianova 2020 Il 18 in consiglio comunale Passerà l'approvazione della riqualificazione Dell'area ex SAIG Da troppo tempo si parla E si parla soltanto Di riqualificazione dell'area Artigianale e industriale Di Colleranesco Ma mai nulla di concreto era stato fatto Ebbene il 18 Un'area di 130.000 metri quadri Sulla quale è insistito La SAIG Che ha dato posti di lavoro Nei decenni scorsi Sarà oggetto di una riqualificazione integrale Passerà in consiglio comunale Questa riqualificazione Che prevede la realizzazione In quel sito Di 70.000 metri quadri Di incubatori Per l'artigianato Per la piccola e media industria Che quindi saranno a disposizione Di nuove imprese Fra le quali Uno ha già opzionato Uno dei capononi più grandi È la Amadori E tanti altri Che stimolaranno Nuova occupazione Quello di cui questo territorio ha bisogno Questo territorio terramano Non so E sicuramente in questa fase Favorire anche questo tipo di insedimenti Potrebbe come dire Attenuare gli effetti della crisi È proprio così La Confcommercio Chiede alla Regione Abruzzo Di non dare applicazione Alla provvedimento del governo Che ha introdotto La liberalizzazione Degli orari di apertura Dei negozi Le servizie La liberalizzazione indiscriminata Degli orari di apertura Dei negozi Rappresenterebbe Il classico colpo di grazia Per il piccolo commercio Al dettaglio locale Lo afferma il presidente Di Confcommercio Della provincia di Chieti Angelo Allegrino Che boccia la liberalizzazione Degli orari Decisa dal governo E chiede alla Regione Di presentare ricorso Contro il provvedimento Ricorra subito Contro questa norma Ammazza commercio Dice Allegrino O in alternativa Non si adegui Supinamente Ad attuarla La Confcommercio Questo è sicuro Non lo permetterà Ed è pronta A fare le barricate Pur di salvaguardare I diritti del piccolo commercio E delle migliaia Di imprese Terziarie Che a fatica Stanno reggendo L'urto Della crisi economica La definizione Degli orari commerciali Conclude Allegrino Spetta alle regioni La liberalizzazione Indiscriminata Degli orari Rischia di avere Risvolti negativi Anche per la vita sociale Di chi opera nel commercio E neppure saldi Sembrano poter salvare La stagione nera Del commercio A Teramo E anche la Confesercenti Esprime preoccupazione Sulla liberalizzazione Degli orari In servizio Hanno preso il via Da qualche giorno I saldi di fine stagione Una stagione Che è stata nera Per gli esercenti A causa della crisi economica E della manovra Monti Che si è rivelata fatale Per i commercianti Storici di Teramo Oggi Che vuoi parlare più Di saldi Perché secondo me Ormai Parlare di saldi Non ha più senso Avevano senso Una volta Quando erano veramente Saldi di fine stagione Oggi Tra vendita promozionale Permesse dalle nuove normative Tra le variazioni climatiche Coincidono E l'anticipazione dei saldi Bisogna constatare Che coincidono L'inizio dei saldi Con l'inizio della stagione E quindi Premesse fra l'altro Che sia un affare Vendere i prodotti Vendere i prodotti A metà prezzo Minimo Scondati Non so Fino a che punto Possa essere vantaggioso Sia per gli operatori Ma anche per i consumatori Perché Sendoci Ripeto Vende promozionale Per tutto l'anno Tutti sti vantaggi Anche per i consumatori In questo periodo Non è che ci saranno A meno che non siano Prodotti griffati E veramente Lì Se fanno i saldi Di fine stagione Lì può essere Anche un'occasione Buona per i consumatori Per regolamentare Un po' la situazione Si potrebbe decidere Di anticiparli Magari a prima del Natale Direttamente Ma non è più Perciò Mi si viene da ridere A me C'è che vogliamo anticipare Ormai Già è tutto anticipato C'è da dire pure Che con gli ultimi Provvedimenti governativi Per rispondere Alle esigenze Di crisi internazionale Economiche e finanziarie Si continua ancora A fare la legna Sulla croce di Gesù Cristo Il giudice del lavoro Del Tribunale di Teramo Il giorno 22 dicembre Scorso ovviamente Ha rigettato Il ricorso presentato Dal tenente Vito Rocco Pace Siamo nel comune Di Sant'Omero Confermati pertanto I sei mesi di sospensione Più il pagamento Delle spese del giudizio Che ammontano A 1451 euro Oltre alle spese generali Nella misura Del 12% Dell'importo onorario E dei diritti Scende al 7,9% Il tasso di disoccupazione In Abruzzo Nel terzo trimestre 2011 Mentre quell'occupazionale Aumenta del 3,6% Sono dati che emergono Da un'indagine Istat Il servizio L'Abruzzo L'Abruzzo resiste Sul fronte del lavoro Lo fotografano I dati Istat Nel terzo trimestre 2011 Il tasso di disoccupazione Scende al 7,9% Restando in linea Con il dato nazionale Che è del 7,6% E nettamente migliore Rispetto al dato Delle altre regioni Del mezzogiorno Il dato dell'occupazione Inoltre registra Un aumento Del 3,6% Portando gli occupati In regione A quota 510.000 Con un incremento Di 18.000 unità Rispetto al terzo trimestre 2010 Nel primo trimestre 2009 Spiega l'assessore al lavoro Paolo Gatti Appena insediata L'aggiunta Chiodi Abbiamo toccato il fondo Sui dati occupazionali Con sole 485.000 persone al lavoro Oggi Nonostante la crisi continui A dispiegare I suoi effetti negativi Sul mondo imprenditoriale E lavorativo Di tutto l'Occidente La regione Abruzzo Resta in trincea E difende l'occupazione In regione Dall'inizio del nostro mandato Lavorano 35.000 persone in più Gatti prosegue Non essendo una provincia Della Cina O dei paesi emergenti Le previsioni Per i prossimi mesi Non ci inducono certo Ad uno sconsiderato ottimismo Continueremo però A fronteggiare la crisi Reiterando le nostre politiche Di incentivi assunzionali Di aiuti All'auto imprenditorialità Di sostegno ai giovani E alle donne Soprattutto attraverso Il potenziamento Della formazione Dell'alta formazione Della qualificazione Del sistema Dell'istruzione E della conciliazione Dei tempi di vita E di lavoro Politiche Conclude Gatti Che evidentemente In questi tre anni Hanno prodotto effetti positivi Accompagnando il coraggio E il dinamismo Del tessuto imprenditoriale E sociale abruzzese La politica regionale Hanno detto L'abruzzo oggi può definirsi Una regione più moderna Maggiormente attenta Alle esigenze Dei cittadini Intervenendo nel corso Di una conferenza stampa In merito all'approvazione Del bilancio Hanno evidenziato Che per forze Di opposizione Che trovano Enormi difficoltà Nel portare avanti Le proprie proposte Di legge Quella della finanziaria È un'occasione fondamentale Fa piacere Hanno ironizzato Che il presidente Chiodi Si sia intestato Ed abbia commentato Positivamente Molte delle proposte Che noi abbiamo fatto passare A Cerbo e Saia Si sono poi soffermati Su una serie di norme Definite epocali Come quella relativa All'abolizione Della nomina politica E dei revisori dei conti Chi deve controllare Non può essere nominato Da coloro Che devono essere controllati Hanno detto Chiodi Ha affermato a Cerbo Si è autointestato L'emendamento Senza dire però Che se la nostra proposta Fosse stata approvata Due anni fa Quando approdò La prima volta in consiglio La maggioranza Avrebbe dovuto rinunciare A decine di nomine A Cerbo ha evidenziato Anche un altro passaggio storico Ovvero La norma relativa Alla cessazione Delle discriminazioni Nel caso di ricoveri ospedalieri Non essendo previsto Il riconoscimento Delle coppie di fatto Ora una persona malata Può decidere Da chi essere assistita Durante il ricovero in ospedale Ha spiegato Aggiungendo L'Abruzzo ha finalmente Una norma di tipo europeo È una questione di civiltà Una scossa di terremoto È stata registrata Nel pomeriggio Nell'area dei monti Della Laga Al confine tra le province Di Teramo E Ascoli Piceno Secondo l'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia La scossa Registrata Alle 16.03 Ha avuto Una magnitudo 2.5 Con epicentro A 8 km Da Teramo Il movimento sismico È avvenuto A 22,8 km Di profondità E non ha causato danni Intanto il sindaco Maurizio Brucchi Ha incontrato Il prefetto Eugenio Soldà Per varare Un piano Di intervento In caso Di terremoto Vediamo Qual è il piano Che è stato deciso In questo incontro Si è parlato Insieme agli altri comuni Coinvolti In questo sciamesismo Si è parlato Un po' Di piani Di protezione civile Noi il nostro piano Ce l'abbiamo già Dal 2009 Lo abbiamo approvato Abbiamo in mente Adesso di realizzare Una fase di informazione Capillare Del cittadino Che deve sapere Dovrà sapere Cosa deve fare In caso di sisma Cosa prevedete di fare Per l'emergenza terremoto Quindi? Guardi Innanzitutto Diciamo il fatto Di avere un piano Di emergenza Un piano di protezione civile È già importante Adesso manca la fase Capillare Di informazione Del cittadino Che metteremo in atto Nelle prossime settimane E poi vorremmo Anche mettere in atto Insieme alla protezione civile Nazionale Una giornata Diciamo di esercitazione Quindi di pratica Di mettere in pratica Ciò che il piano Di protezione civile prevede Credo che sia molto importante Perché i terremoti Non sono prevedibili Però la cosa importante È farsi trovare pronti E noi devo dire Che siamo già abbastanza avanti Da questo punto di vista Abbiamo un piano Di protezione civile Che per adesso va messo Che abbiamo anche pubblicato E sul sito internet La stampa Lo ha più volte pubblicato Però adesso manca La fase di informativa Capillare Che metteremo in atto Nelle prossime settimane Prenderà il via La prossima settimana D'Ancarano Il secondo corso Di addestramento Per i volontari Della protezione civile Ascoltiamo il sindaco Sindaco sta per partire Da Ancarano Il secondo corso Per addestrare I volontari Della protezione civile Iniziativa promossa Dalla comune Sì È il secondo corso Base di protezione civile Organizzato chiaramente Insieme al locale gruppo Di protezione civile La novità è che Quest'anno È promossa appunto Dall'amministrazione E diciamo Uno dei punti cardini Sarà quello appunto Di promuovere Diciamo Quelle che sono Le funzioni Della protezione civile E anche Di promuovere La cultura Della protezione civile Perché comunque Il corso Non è solo Finalizzato All'operatività Nel senso Di creare Il gruppo Ma ha anche La duplice funzione Quella appunto Di far Diffondere Quelle che sono Le iniziative Della protezione civile E come può Essere utile A tutti i cittadini Qualora Ci si dovesse trovare Appunto In uno stato Di necessità Vogliamo dare Un appuntamento A coloro che sono Interessati Quando partirà Il corso E dove Il corso partirà Il 12 gennaio Qui appunto A fianco alla sede Comunale Nelle scuole Nella scuola media E per informazioni Ci si può rivolgere Al comune È aperto a tutti Chi vuole partecipare Sarà il benvenuto A Miano Presenti Oltre 2000 persone Che hanno Partecipato Ieri Al presepe vivente La quarta edizione Appunto Di questa manifestazione Che si è tenuta Nel borgo Vediamo Si è svolta Ieri a Miano La quarta edizione Del presepe vivente Nel borgo La rappresentazione È stata organizzata Dalla parrocchia Di San Silvestro E ha visto la partecipazione Come figuranti Di diversi cittadini Anche di località Limitrofe Quest'anno Alla sacra rappresentazione Hanno preso parte Oltre 170 figuranti Tra i quali Anche il sindaco Di Teramo Maurizio Brucchi Nei panni Di un sommo sacerdote Il presidente Del consiglio comunale Angelo Puglia Gli assessori Giacomo Agostinelli E Guido Campana E il consigliere Maurizio Verna Particolarmente impegnato Nell'organizzazione Della rappresentazione Il nuovo parroco di Miano Don Enzo Che ha proseguito Il percorso avviato Quattro anni fa Da Don Cristian Almeno 2000 le persone Che hanno assistito Al presepe vivente Tra i quali Il questore di Teramo A Maglia di Ruocco Gli organizzatori Per agevolare Il flusso di gente E per evitare problemi Di parcheggio Hanno istituito Dei bus navetta Coordinati Dalla protezione civile Come al solito Tutto è filato liscio Il presepe di Miano Si conferma Uno degli appuntamenti Più seguiti e apprezzati Tra quelli organizzati Nel periodo natalizio In provincia di Teramo E prima della pagina sportiva Vediamo insieme Che tempo farà domani Con le previsioni Di meteoteramo.it Previsioni per domani In provincia di Teramo Mattinata e ore pomeridiane Caratterizzate da tempo soleggiato Su tutto il territorio provinciale In serata aumento della nuvolosità A partire dai settori litoranei Con possibilità di qualche debole precipitazione Notturna a carattere sparso Nevicate oltre i mille metri Temperature in lieve aumento Massime comprese tra 11 e 14 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 12 e 15 gradi sulle coste Venti deboli in prevalenza settentrionali Mari poco mossi E siamo allo sport Iniziamo con il basket Davide schiaccia a Golia La bancaterca Steramo Supera la capolista Emporio Armani Milano Per 74 a 68 Primi due quarti di sofferenza Per il quintetto di Ramagli Brandon Brown Suona la carica per la rimonta Buona la prova di McGret Ora la bancaterca Si è a quota 8 punti In classifica E aggancia Casale Monferrato Cremone e Montegranaro Che scenderanno in campo domani Ma vediamo il servizio sulla gara Una vittoria incredibile Contro la capolista Contro l'Emporio Armani Milano Abbiamo qui con noi Il capitano Che sprizza gioia da tutti i pori Gianluca Come è stato possibile? Perché quando gioco io Vinciamo sempre È vero Successo a Montegranaro Scherzo A parte gli scherzi Abbiamo giocato con grande cuore Eravamo un po' timidi Al primo tempo Dovevamo giocare Come ci aveva detto il coach Con un po' più di sfacciataggine Con un po' più di inconscienza L'abbiamo fatto nel secondo tempo Facendo una difesa straordinaria Concedendo A una squadra come Milano 28 punti Quindi questo è un successo che Veramente ci rimette in corsa Ma la squadra non ha mai mollato La squadra ha sempre giocato Nonostante le difficoltà Probabilmente quello che avevamo detto Sul 2011 Era vero Siamo 2-0 Adesso ci godiamo questa grande vittoria E da domani o da lunedì Prepareremo la trasferta di Casale E c'è anche qui Lino Pellecchia Felicissimo Per aver vinto questa partita Contro Milano Contro Milano Siamo fortissimi Grazie a tutti gli atleti Grazie di cuore Grazie Grazie a voi Andiamo al commento Con Bruno Impaloni Davvero la gioia irrefrenabile Qui al Palace Capriano Per aver messo sotto La capolista Come è stato possibile? Lo chiediamo a Bruno Impaloni Beh è stato possibile Unendo un po' Le due partite Cioè le due facce di Teramo Quella che gioca con molta energia Però magari un po' ferraginosa in attacco E quella che gioca ben in attacco Però mancando di energia In certi momenti della partita Teramo invece ha unito sempre Tranne i primi 3-4 minuti Una grossa energia E una grossa sapienza tattica Si è visto E questo Ramagli Probabilmente neanche lo dirà Però si è visto Quando un solo innesto Può essere importante Per questa squadra Con un Megret Che ha tirato Non con percentuali Da favola Avrà fatto penso 3 su 7 Però ha fatto i canesti importanti E ha dato rotazione Ha dato fiducia alla squadra L'immagine poi di questa partita Oltre a un Brandon Brown Sprepitoso Una squadra che ha giocato Con grossa energia E forse Cerella Che non ha fatto una gran partita Ha recuperato però Dei palloni importanti Si è recuperato Un pallone decisivo Dando poi A loro la possibilità Di vincere Ma tornando E con la sua energia A recuperare il pallone Della vittoria Onestamente Questa è Teramo Una squadra Che ci crede sempre Ma soprattutto L'abbiamo detto Anche durante le partite Noi ci crediamo Perché la squadra gioca E quando vedi una squadra Giocare Alla fine i risultati vengono Allora chiudiamo qui Questo servizio Dal Palas Capriano Con i punti realizzati Intanto è finita 74 a 68 Per la Banca Terca Scontro l'Emporio Armani Milano 28 punti Di uno strepitoso Brandon Brown 12 di Magret 4 di Amoroso 7 di Cerella 11 di Di Brown 10 di Borissov E 2 di Polonara Per Milano 16 punti di Mancinelli 10 di Fossis 8 di Cook 9 di Nikolas 4 di Rocca 12 di Borussis 3 di Melli 2 di Gentile 4 di Radosevic Apriglia Giuliano Campobasso L'Aquila Catanzaro Melfi Vibonese Neapolis Celano Olimpia Paganese Fano Almajue Vigor Lamezia Riposerà L'Isola Liri Allora Si diceva Del Giuliano Che affronterà Appunto L'Apriglia In trasferta Non ci sarà Testoni Perché è squalificato Giocherà Però Federico Del Grosso Dal primo minuto Ed è l'ultimo Arrivo In casa Giallorossa Vediamo La tranquillità Del Giuliano Si gioca su due fronti Sul rettangolo verde Dove i giallorossi Proveranno a ripetere L'ottimo girono di andata E sul fronte societario Dove le incertezze Sul futuro Sono ancora tante Riprende domani Il campionato Di seconda divisione Con il Giuliano Che sarà impegnato Sul neutro di fondi Contro l'Apriglia Degli ex Vivarini e Croce La lunga sosta Ha consentito Al tecnico De Pate Di recuperare Gli acciaccati E di ricaricare Le batterie In vista del Girone di ritorno Nel quale Il Giuliano Avrà come obiettivo Quello di tenersi Alla larga Dalle posizioni Più a rischio Della classifica E di attenuare Gli effetti Della possibile Penalizzazione Ragione per la quale I giallorossi Andranno subito Alla caccia Di un risultato Utile Necessario Per ripartire Con il piede giusto Nella fase Discendente Della stagione In terra pontina De Pate Dovrà rinunciare Al difensore Testoni Fermo per squalifica In compenso Sarà disponibile Il nuovo arrivato Il difensore Federico del Grosso Tesserato Nei giorni scorsi Che compare Nella lista De convocati Il laterale È pronto all'esordio Ed è ipotizzabile Che De Pate Gli assegni Da subito Una maglia Da titolare Per il resto Il tecnico Giallorossa Ha praticamente Tutta la rosa A disposizione La gara di domani Sarà diretta Da sacchi Di macerata La sfida Con l'apriglia Però non è L'unica preoccupazione In casa Giallorossa Visto Che nelle ultime Settimane A tenere banco Sono soprattutto Le vicende Di natura societaria Anche alla luce Del fatto Che il discorso Con l'imprenditore Fabrizio De Giovanni È definitivamente Tramontato Lo stesso armatore romano Ha replicato In maniera polemica Al sindaco Siamo noi Quelli che cessano Qualsiasi ipotesi Di trattativa Anche futura Ha detto Ma il punto Non è questo In mancanza Di forze economiche Capaci di rilevare Il pacchetto societario O di assecondare Il presidente D'Agostino Nella gestione societaria Il futuro Del calcio A Giulia Nove È a rischio Nel frattempo Lo stesso D'Agostino Ha assicurato Di portare a termine L'attuale stagione Con la speranza Che qualcuno Si faccia avanti E prima di andare a vedere Le gare in programma Domani in Serie D Vi annuncio che domani A partire dalle 16.30 Circa Potrete seguire Sulla nostra rete La differita Della gara Tra Banca Ter Casteramo E Emporio Armani Milano Ricordiamo La gara è stata vinta Dai Biancorossi Per 74 A 68 Dunque La gara di basket La potrete seguire domani Subito dopo Studio Stadio Intanto andiamo a vedere Quali sono le gare in programma Nel campionato di Serie D Gironef Che riparte dopo la lunga sosta A Natalizia Civita Novese Teramo Isernia Tessa Valdisangro Iesina Luco Canistro Miglianico Re Canatese Renato Curi Angolana Ancona Re Arrimini Vispesa Rossan Benedettese Atletico Trivento San Nicolò Olimpia Agnonese Sant'Egidiese Riccione Dopo la sconfitta In quel di Ancona Prima della pausa A Natalizia Il Teramo Come avete visto Dovrà affrontare domani Un'altra trasferta impegnativa Contro la Civita Novese Terza in classifica Sarà la prima giornata Del girone di ritorno In Serie D All'andata la sfida Terminò in parità 1 a 1 Ma ascoltiamo Andrea Bucchi E Manuel Ferrani Bucchi a Civita Nova Ci vorrà un Teramo Molto diverso Da quello di Ancona E' così? Bene Sicuramente L'ultima partita Per come è finita Speriamo che Non finisca pure quella di Cino Ma non al di là di questo Penso che sicuramente Sarà una partita molto difficile E' da affrontare Con il piglio giusto Poi viene dopo la sosta Che di solito dopo la sosta Sai è sempre un'incognita La partita dopo la sosta Quindi Però penso che ci stiamo preparando bene Che siamo pronti per questa sfida Quelle dopo la sosta Sono le partite più strane Lo dicevi poco fa Solitamente sono quelle che riservano La sorpresa maggiore Tra due grandi di questo campionato Quale potrebbe essere la sorpresa? Ma speriamo che Ecco che noi Riusciamo a fare lo scherzetto Dai Noi Tra l'ho detto Noi ci stiamo preparando Da due settimane Abbiamo lavorato bene Quindi penso che arriviamo a questa partita Bene Poi è normale Che la domenica Quello che succede Non si sa Però ecco Penso che ci sono tutti i presupposti Per poter fare una buona partita Sì È una partita difficile Come tante altre Alla fine Anche dal punto di vista ambientale Ah sì Quello è normale Ma penso che anche A Dancona È stata così E tante altre partite Quindi Noi andremo a fare la nostra partita Come abbiamo sempre fatto E come secondo me Abbiamo fatto bene anche a Dancona Nella prima parte E poi sono stati degli episodi Che magari si hanno un po' Messo in difficoltà Però abbiamo fatto anche lì A mio avviso Un'ottima gara E Bisogna andare là Concentrati E puntare a vincere Il San Nicolò Ovviamente Prima giornata di ritorno Anche per il San Nicolò Che affronta l'Olimpia agnonese Ricordiamo l'andata Vinse 4 a 0 La formazione di Vittorio Calabrese Che domani probabilmente Dovrà fare a meno Dell'argentino Arse Perché ha avuto qualche giorno Di permesso in più È rimasto in Argentina E quando è tornato Con I chili in più Insomma È stato trovato fuori Condizione Dovrà lavorare per ritrovare La migliore condizione E la Sant'Egidiese Ospiterà domani il Riccione Sarà una gara importante Per i giallorossi Di Mister Fontana Contro una rivale diretta Per la salvezza Tornare alla vittoria Sarà la parola d'ordine Per provare ad allontanarsi Dalla zona play-out La Sant'Egidiese Dovrà fare a meno Di Fabio Di Polito Per la frattura Allo Scafoide Ma ascoltiamo il parere Di Mister Fontana E di Giorgio Lavista Fontana archiviata La lunga sosta Si focalizza La ripresa del campionato Subito un impegno importante In casa con il Riccione Sì Adesso C'è da Ributarsi mentalmente In quello che Poi la caratteristica Del campionato La giusta tensione La giusta determinazione Perché La classifica Ci impone Di 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 Mettere Fiani In Cascina Più presso possibile Ripartire anche Con Riccione Che sicuramente È una squadra Che sta facendo Un ottimo campionato Almeno fino Prima della sosta Ha dimostrato Di saperci stare Anche bene In questa categoria Non sarà sicuramente facile Ma noi abbiamo L'obbligo Di provare A ottenere Tre punti Perché come dicevo Prima Una classifica Ci chiama A questo impegno Sicuramente Di far meglio Lavoriamo Ogni giorno Per questo Sicuramente Dovremo Affrontare le partite Del girone di ritorno In maniera Differente Rispetto a quello Che abbiamo fatto Stiamo Stiamo bene Fisicamente Quindi Siamo anche Abbastanza fiduciosi La squadra Durante la sosta Ha lavorato molto Ci sono stati Anche dei nuovi Innesti Quindi l'obiettivo È di tornare In campo Più competitivi Probabilmente Sì Infatti Abbiamo lavorato Tanto anche per questo Per farlo Inserire nella maniera Giusta Sono dei ragazzi Molto validi Che hanno voglia di fare E questo è quello Che serve A questo gruppo E con questo è tutto Grazie per l'attenzione Buona serata E buona domenica Vi ricordo ovviamente L'edizione flash Delle 22 e 30 Arrivederci Buon fine settimana Ciao a tutti Grazie a tutti.